Buongiorno a tutti, l'Atalanta supera 5-0 il Frosinone, purtroppo il Frosinone è la quinta sconfitta consecutiva in campionato, ovviamente sta facendo un ottimo campionato, una piccola flessione c'è, tra l'altro ha incontrato una squadra in gran forma che dopo aver eliminato il Milan dalla Coppa Italia ieri ne ha rifilati 5 e sinceramente questo è un esempio di come sta bene l'Atalanta, tra l'altro con la crescita di alcuni giocatori che erano aspettati, tra cui Hobbs, con un De Ketteler sicuramente in grande spolvero, ieri ha fatto un altro gran gol calciando bene in pieno la palla, con uno scamacca in crescita, si vede che vuole fare, si vede che vuole far bene, ieri un po' sfortunato anche sul colpo di testa che poi ha parato il portiere del Frosinone. Frosinone che ha provato a reagire però in questo momento l'Atalanta sicuramente è in lotta anche per la Champions e lo sta dimostrando con grande, grande, grande temperamento. auguro a tutte e due le squadre, auguro all'Atalanta nella speranza che possa fare raggiungere l'Europa anche quest'anno, è un Frosinone che è una squadra che fa bene al calcio italiano perché gioca al calcio, se la gioca, momento di calo, ma si spera nella salvezza.